Siamo qua per ricordarvi, io Ugo Palmisano, Simo DJ che è dietro la telecamera e Federico Arceci che salutiamo e noi come Radio Studio Più siamo in tour con il nostro studio mobile, ci siamo dati un nome carino a detta degli altri ci è piaciuto subito Cacciatori di Sorrisi, lo abbiamo tramutato in inglese perché fa più figo, siamo gli Smile Hunter e giriamo per tutta la riviera romagnola a caccia di sorrisi in questo tour in particolar modo vi ricordiamo che da venerdì fino a domenica saremo in tour proprio nelle Marche domenica a proposito vi ricordo saremo al ristorante e pizzeria La Quercia di Fano, provincia di Pesaro Urbino questo ci tenevo a dirlo, quindi salutiamo tutta la direzione e tutti i proprietari ricordandovi che domenica sera ci sarà lo spettacolo comico di Andrea Catavolo che salutiamo la punta di Diamante di Radio Studio Più che salutiamo il nostro tour poi proseguirà, rimarremo qui due settimane quindi avremo modo poi di ritornare anche nelle Marche anche se noi gireremo da tutta per tutta la riviera quindi mi raccomando ascoltateci sui 95.5 Radio Studio Più e mi raccomando guardateci sul canale 17 di Fano TV Grazie a tutti